Grande festa sugli spalti per il derby Ravenna con Rossi in porta, Iuliano e Pecorari al centro della difesa nel Bologna da Hilton, Bombardini e Di Gennaro alle spalle di Marazzina, Bucchi alla Tonsillite, dirige Mazzoleni di Bergamo Il Ravenna deve riscattare la pesante sconfitta di Ascoli, punizione dalla destra di Sciacca Luga in aria colpisce di testa Iuliano, palla però alta Minuto numero 9, episodio rilevante della partita Iuliano ferma Bombardini che può lanciarsi in aria, Mazzoleni giudica l'ex Juventino, ultimo uomo, rosso per lui e va nelle proteste del Ravenna, rivediamo il netto fallo sul centrocampista, rosso-blu In superiorità numerica il Bologna mantiene un maggior possesso palla, particolarmente negli ultimi minuti del primo tempo 38esimo Bonetto mette in mezzo e Marazzina in girata, calcia alto Un minuto dopo Di Gennaro lavora un pallone sulla sinistra, molto bene come possiamo vedere Bravo nell'uno contro uno, trova il diagonale respinto da Rossi Il tempo si chiude con il Bologna in attacco, Di Gennaro dalla sinistra sul cross non riesce alla rovesciata di Marazzina, stop di petto e tiro di Ada Hilton comparata di un ottimo Rossi Ritmi molto più alti nella ripresa, le immagini montate da Federico Mattei ci mostrano subito il gran tiro di Di Gennaro e l'intervento di Rossi migliore in campo quest'oggi Non un minuto dai 30 metri, Ada Hilton si accentra, carica il sinistro che si stampa sul palo Dopo la protezza del brasiliano ancora una botta dalla lunga distanza questa volta di Carrus si esalta ancora il giovane portiere di casa 28esimo della ripresa cross di Mingazzini probabilmente c'è una spinta a centro area, forse su Moras le immagini comunque non ci aiutano calcio di rigore realizzato da Ada Hilton Bologna che va sull'1-0 sesto gol per il brasiliano la gara diventa tesa, dirigenti della Ravenna allontanati dal campo ma la reazione dei padroni di casa è forte e significativa punizione di Sciacca Luca salta su tutti i succi ed è l'1-1 undicesimo gol stagionale per il goleador Giallorosso possiamo staccare con l'intervento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti